Pronto? Ciao, sono la Clelia. Allora? Com'è Ala? Allora? No, 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 no. Io sto malissimo. Eh, potate, guarda, ho la diabete che mi ha fatto intamata. Sì, sono bloccata col col. Sì, sono bloccata. Sì, ho la mobilità di Robocop. Eh, allora, di niente, forse un dè che 20 si gradi, il dè dopo più è fiocca tempesta e quarcia e desquarcia e desquarcia e desquarcia che c'è capito per casi tu. Eh, t'è tutto bene? Bene! Ah, sei andata via? Bene! Dove sei sentata in montagna? Bene! Bello, bello la montagna, mi piace un po' a me. No, se fai le camminate, puoi andare. No, 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 ma sono stata che forse andò, che mi ha portato in due, che il tegna, no, no, no. Guarda, lo sai chi ci aveva visto lungo? La mia mamma. La mia mamma, se la mi dice, spuse al mio che ti fa fare una vita, che le, ada che le tirchio, ada che le tirchio, è il gale vipera in scarsella, che le, infatti, la ghiere su. Pensa che in 50 anni, l'unica volta che mi ha detto, ti porto a fare un viaggio, sentendo che mi ha portato? Ha su il soco. No, se, ma aspetta, la ghiere anche, è che la turno andrà a San Firex, ma può restare la ciappella di benzina. Sì, infatti, dopo la volta, le, il ghiere sempre tutte le macchine diesel. Sì, perché il tegna, ma... Poi, ma per forza il tegna, ma... Perché? Perché c'è la nafta al po' il zio cecchi. Sì, sì, certo, dalla cisterna del gasolio agricolo. Oh, ma qua il gasolio... Ma no, ma un dè, un dè, si è incursito il zio, eh. Ma, ma se, c'è il ghiere anche il dè, dè a legno con la stropa, tante, ma tante, ma tante, ma tante. Sì, poi c'è il ghiere anche un pezzo al cuore, che c'è ciò palle e scarpe. Tasta me, grista!